Livio Di Bartolomeo, amministratore unico del progetto sport e gestione impianti, la società che gestisce la struttura sportiva Le Naadi di Pescara, proprio ieri ha ribadito che entro venerdì prossimo l'acqua tornerà alla temperatura di 24 gradi così come imposto dalla FIMN, pertanto tutte le attività del fine settimana potranno riprendere regolarmente. Intanto sul futuro delle piscine Le Naadi interviene l'assessore regionale allo sport Mauro Febo, alla luce anche della sospensione di tutte le attività in acqua per il mancato funzionamento del riscaldamento. Era stata data una proroga e bandita una gara per una gestione temporanea di 18 mesi. Al momento dell'aggiudicazione di questa gestione c'è stato il ricorso al TAR, ricorso al TAR che si doveva decidere il 26 l'altro ieri, purtroppo il TAR ha deciso di non decidere, nel senso che si è autodeterminato a capire se la competenza è del TAR di Pescara o dell'Aquila. Questo ci porta a lavorare di corsa per una ulteriore proroga, anziché quindi dare in affidamento, ma ad una ulteriore proroga che può essere tra 60 e 90 giorni. Gli uffici ci stanno lavorando da poche ore, sorge una domanda, una segnalazione che qualcuno ci ha fatto, non vorremmo che la società che oggi sta gestendo sia in corsa in qualche procedura concorsuale. Stanno verificando, ma noi andiamo verso la proroga. Il nuovo governo regionale, affermato Febo, sta lavorando per rilanciare il complesso sportivo. Un rilancio, ha sottolineato, che passerà attraverso un maxi investimento del project financing da oltre 20 milioni di euro. Io sono convinto che il progetto di finanze che è stato presentato sarà un progetto di rilevanza nazionale e attenzionerà le nai di Pescara e l'Abruzzo, non solo a livello agonistico, ma a livello anche turistico, perché è qualcosa di veramente interessante.